Quindi oggi il comune del show è la pasta e parleremo di come cuocere la pasta correttamente in un modo molto italiano. Vedete, ho visto molti errori sul web per cuocere la pasta. Ci sono persone che facciano la pasta e l'acqua al stesso tempo, ci sono persone che esquevano di mettere l'acqua in l'acqua e molti metodi di cuocere che non sono, diciamo, canoniose in Italia. Quindi, prima di tutto, dobbiamo capire tutti i tre tipi di pasta che abbiamo in Italia. Non sto parlando della forma della pasta, ma della textura della pasta e come è fatto. Benvenuti al mio canale, se ti piace le cose che faccio, ringrazio per supportare tutto il mio lavoro. Quindi qui abbiamo tre tipi di pasta. Prima di tutto, c'è questa pasta, questa è una pasta molto commerciale, diciamo, è una pasta di buona qualità, ma è la più comune di trovare nei supermercati. Perché è molto economico. Quindi, vedete, questo tipo di pasta ha una superficie molto semplice. E la più comune di cuocere è mettere l'acqua in acqua con il salto e aspettare per il tempo di cuocere. Questo è sempre indicato nel packaging. Quindi, puoi cuocerlo al dente, che significa molto delicato, molto delicato quando cuocerlo. Ma puoi anche un po' overcocerlo. Cioè, in molte famiglie italiane, con le persone vecchie, tendono a overcoccare la pasta. La pasta al dente è una cosa che solo un po' famiglie fa e che puoi trovare in restaurant italiani. Ma, in realtà, molte persone italiane facendano la pasta. Quindi, questa è fatta da semola di grano duro, che significa pasta di cuocere. Ma come la pasta è fatta dall'origine? Prima di tutto, facciamo il dente. Dopo questo, passiamo il dente tra questi accessori. Quindi, questo è un'economica. E, vedete, è fatta da metallo. Ma la pasta è fatta da plastica. Quindi, con questo, facciamo la pasta come questa. Molto, molto delicata. Ci sono alcuni accessori come questo, che sono fatte in bronzo. E con questo, puoi trovare la pasta con la stessa pasta, molto differente. Perché questo tipo di pasta, come puoi vedere, ha una superficie molto ruffa. Questa superficie, su questa linguine, permette la pasta di cuocere più sauce. Inoltre, questa pasta ha una più grande quantità di grasso. Quindi, puoi usare e cuocere in una forma diversa, per rilassare la pasta di grasso e fare una sauce molto buona e tastiera. Dopo questo, alla fine, abbiamo la pasta fresca. E' questa pasta fresca, ma abbiamo anche la pasta fresca. E la principale caratteristica e differenza tra questo e questo è che, in questi casi, usiamo l'acqua e l'acqua minerali. Niente altro. Nella pasta fresca, usiamo l'acqua e gli occhi. Niente altro. Non aggiungiamo qualsiasi liquido. Ma alcuni italiani avevano aggiungere un po' di olio di olio. per farlo tastier. Come puoi vedere, questo tipo di pasta è molto diverso dalla pasta normale. È più giallo, perché gli occhi. E è più finno. Questo tipo di pasta ha anche bisogno di un tempo più corto per cuocere. E la principale differenza tra la pasta fresca e la pasta fresca, è che la pasta fresca è quasi impossibile di fare al dente. perché gli occhi rendono la textura molto molto dolce. Ma ora andiamo alla cucina e vediamo come cuocere la pasta in modo libero, che sono molto molto italiane. Quindi prendete molta acqua normale e lo mettete in bollino. Il primo passaggio cruciale è aggiungere il salto. Il salto è il nostro star del show. Quanto salto bisogna per fare una pasta fresca e buona molto buona? Quindi la quantità di salto è 10 grammi di salto ogni 1 litro di acqua e 100 grammi di pasta. Con questo non puoi farlo male. Ho aggiunto il salto con i miei occhi. Ho cibo la pasta da quando ero molto piccolo. Aspetta l'acqua per cuocere. Quando cuocere, aggiungi il salto e dopo questo aggiungi la pasta. Ora aggiungo una piccola quantità di pasta solo per mostrare come cuocere. mettiamo solo una pochettina. Questi sono circa 50 grammi di pasta e dopo questo aggiungo un pochettino solo per non lasciare la pasta di attaccare con il basso del panno e aspettare fino al cuocere. Questa pasta prende circa 14 minuti per cuocere completamente. Quindi, ora quasi 14 minuti hanno passato. in un pochettino, ho aggiungo un salto di tomato in una panna e la pasta è quasi pronta. Quindi, prima di prenderla fuori dalla pasta, solo la testa. Questo è buono. Questo è cuocato alla perfezione. E con una schiumarola, lo chiamiamo in Italia, e ovviamente mettiamo tutto nella nostra salsa di tomato. Questo è chiamato pasta asciutta perché cuociamo la pasta prima, fino al cuocere completo e dopo questo aggiungiamo la nostra salsa. Può essere la salsa di tomato o altre salsa molto, molto bella. Per esempio, questo tipo di cuocere di pasta è perfetto per il pesto, per altre salle che non hanno bisogno di mantecare la pasta. Abbiamo aggiunto solo un basso basso, abbiamo sottato un pochettino e la nostra pasta è pronta. Come potete vedere, questa è una pasta di pasta italiana tipica, pasta con pomodoro. Quindi, per il secondo metodo abbiamo sempre bisogno di acqua di acqua e questo è già salto, è lo stesso che abbiamo cuocato l'altra pasta prima e lo cuoceremo la seconda volta la pasta molto raffa nella superficie. Per esempio, puoi usare l'unico o l'altro metodo con l'altra pasta. Non fa molta differenza, ma con questo secondo metodo facciamo qualcosa un po' differente. Quindi questa pasta necessita quasi 10 minuti per cuocere completamente al dente. Quindi, lo facciamo cuocere per 5-6 minuti nella acqua di acqua. Dopo questo, lo trasferiremo nella panna con la nostra salsa e useremo la pasta di acqua per creare una salsa molto crema e silica. Quindi, metteremo la nostra pasta in la pasta. Quindi, con questa pasta, la pasta lunga, non rompete la pasta, solo metteremo la pasta in acqua con una spoon e dopo questo, solo facciamo 2-3 volte, lentamente, perché non vuoi rinforzare o rompere la pasta. Se hanno fatto una pasta lunga, c'è una razza. Dopo questo, aspettiamo fino a 5-6 minuti e lo trasferiremo nella panna. Quindi, ora la pasta è cuocata per 5-6 minuti e lo facciamo dalla acqua di acqua e lo aggiungiamo alla nostra salsa. Puoi vedere che la pasta non è cuocata, è molto, molto ferma e è molto, molto difficile. Ma vogliamo fare questo processo per usare tutto il grasso della pasta finire la cuocere nella panna per creare una salsa molto silica. Ho scoperto tutta la pasta e aggiungiamo la nostra acqua. Questa è quasi la stessa procedura per fare risotto. Solo non aggiungiamo troppo acqua perché non vogliamo overcocere la pasta. Quindi puoi vedere come il liquido è diventato più e più dente. Questo è perché il grasso nella superficie e dentro la pasta è iniziato a rinforzare e per rendere la salsa più profonda ma anche più silica. Questa procedura di cuocere la pasta è spesso usata per fare alcune ricette molto nuove come per esempio la carbonara che faremo in altri video. Lasciamo la pasta cuocere fino al fine. Puoi vedere il sonno che è il sonno di amore. Questo significa che la pasta è molto ben fatta e rimanere al dente. Questo è il tipo di cuocere che vogliamo fare una salsa più cremosa e più tessera. Questo davvero è il sonno di amore. Solo aggiungiamo un po' di olio di oliva per stoppare la cuocere e per renderlo più tessera. Un basil resta sul top e faremo qualche trucchia. Prendiamo tutta questa bella e poi crema. Vedi? Non ho aggiunto nessuna acqua non ho aggiunto nessuna crema non ho aggiunto niente ma questo è posso assurare di te molto molto gustoso e è un modo tipico di cuocere la nostra pasta. Come puoi vedere è silica e molto facile da fare. Quindi questo metodo non è usato da molti famigli italiani ma è usato per alcune ricette come per esempio pasta all'assassina che letteralmente significa pasta degli assassini quindi prendi un po' di pasta la parte che vuoi e aggiungi direttamente alla tua pancia la pancia per diventare molto calda e inizia ad aggiungere l'acqua proprio quando necessitano bisogna aggiungere come per esempio due o tre spoon di water e devi assicurare di avere una pancia molto calda per cuocere la pasta questo metodo è un po' di calda è usato per usare tutto il pancia che la pasta contiene quindi la crema diventerà molto molto intensa e in alcune mani non è utile per molte ricette come vedete la pasta è inizia di cuocere vedete tutte queste babboli questo è il pancia che la pasta sta rilassando quindi ora la pasta è completamente cuocata quindi potete vedere tutto il pancia e aggiungeremo solo un po' di zucchero vedete che il zucchero si combinano con il zucchero e farà una davvero davvero buona salsa per esempio puoi usare questa metoda per fare l'alfredo linguine vedete la salsa la crema quindi prendiamo tutta la salsa non vogliamo perdere tutta la crema dentro la pancia guardate questo guardate questo ragazzi quindi ora guardate questa tre bellissima pasta sono sempre pasta con ingredienti molto semplici ma come avete visto sono tre metodi quindi per resumare tutto il primo metodo mettete la pasta nella acqua salata e lascia cuocerla fino alla fine è usato per salsa molto sempli e salsa che non bisogna essere molto mixata con la pasta sulla panna per esempio come ho detto il pesto o tomato è molto sempli o pasta salata questa è la forma di cuocere questo metodo il secondo metodo è molto usato e è molto comune perché è usato per creme sauces come per esempio carbonara cacio e pepe aglio olio lingui elastice e molti di sauce come questo potete varietà il tempo che la pasta cuore in acqua e il tempo che la pasta finisce la cuocere in panne in questo tempo potete varietà l'amount di che usate per creare la crema molto densa e molto silky l'ultimo è il modo più comune di cuocere pasta in itali ma potete usare quando vuoi fare davvero densa sauce per esempio nel linguine alfredo ora smettate tutte queste pasta questa è pasta asciutta e significa pasta secca perché puoi vedere che non c'è sauce in it it's almost dry let's test it the pasta is cooked al dente you can't taste any starch in it and you really can taste the flavor of the sauce now now they are a little bit cold but you can see this is very silky sauce just taste taste them with a little bit of little tomato here you can taste the silkiness the smoothness because the starch has really done its job you can see the pasta is very mixed with the sauce and also the kind of pasta that we use the the pasta with the rough surface contributes to make this result it's very very good and it's a very good way to cook pasta at the end the last one you can see the butter and the starch really are present I didn't add any other ingredients to that even if it looks like there is a cream there is no cream at all it's only starch of the pasta pasta and butter you can see how it's creamy how it's very silky and it it will have a very good texture just let's let's taste it's very very good because here you can taste the salt remember to add just the right amount of salt at the end of the cooking because if not it will be too much concentrated and you will not enjoy that result but here you can really test the butter because the butter it's only melted at the end it's not cooked so it's very very tasty these are the only free methods of cooking pasta in a correct way so please share this video with your friends that still cook pasta in a wrong way don't break the spaghetti because an Italian grandmother dies every time you break the spaghetti and enjoy your pasta goodbye